Fu la duchessa Donna Porzia Carafa Gaetani a fondare nel 1646 il monastero di San Benedetto a Piedimonte Matese, dove rinchiuse le sue due figlie minori. La costruzione della chiesa invece ebbe inizio nel 1745. A seguito dell'invasione francese nel 1806, le monache benedettine dell'adorazione perpetua del Santissimo dovettero abbandonare il monastero fino al 1810 e poi ancora nel 1866, quando venne soppresso dal governo italiano. Riaperto nel 1890, declinò negli anni seguenti, fino a che non fu aggregato al monastero di Roncogiffa nel 1922. L'insieme monastico è molto vasto, attorniato dai palazzi secolari del centro storico del paese. Al suo interno si aprono ampi terrazzi e due verdissimi giardini che fungono anche da orto. Le monache sono bravissime nei lavori di maglieria, ricami uncinetto e decorazioni di pergamene.